Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara. Buon venerdì, riprende la rubrica del venerdì con le figure storiche targate Kenner dedicate alla serie animata di Batman. Oggi abbiamo uno di quelli più iconici, chi se lo scorda, il Batman arancione, lo Skydive Batman, questo Batman con il paracadute. Eccolo qui nella sua confezione originale sigillata, eccolo qua, qui c'è la gimmick che ci fa vedere che il Batman si può effettivamente lanciare sul paracadute. E qui abbiamo invece il resto dei personaggi disponibili e quindi io direi di non perdere altro tempo, andiamolo subito a vedere fuori dalla confezione. Prima però volevo farvi un aggiornamento veloce, ovvero che troverete in vendita questo undercover Bruce Wayne della seconda serie animata, il Bruce Wayne che si trasforma in Batman. Lo troverete, nuovo sigillato, perfetto sul mio sito Ara Shop, nel link qui sotto in descrizione. Andiamo a vedere il nostro Skydive Batman. Ed eccolo qua ragazzi, il Batman più arancione di sempre fuori dalla confezione con il suo accessorio che è appunto il paracadute che si compone di questo pezzo frontale, questa armatura frontale, che si collega a quest'altro pezzo che è appunto il backpack contenente, il paracadute in questo modo qui, molto semplice. E allora ragazzi, all'interno chiaramente c'è il paracadute che tra poco aprirò, nonostante sia un casino poi da rimettere a posto, per il content per voi lo faccio. Vediamo il Batman intanto che è molto figo a mio parere, eccolo qua. Mi è sempre piaciuto un sacco questo arancione sgargiante su questo Batman, anche se non c'entra assolutamente nulla con Batman, ma da bambino mi è sempre piaciuto. Poi il colore arancione accoppiato col nero a me piace un sacco. Questo Batman è molto particolare, ha sempre i soliti 5 punti di snodo, chiaramente, però al contrario degli altri ha questa parte qui, sentite, abbastanza vuota, più vuota degli altri. Perché? Per farlo più leggero, infatti lui è l'unico che ha le viti tra l'altro dietro per unire le due parti. Per farlo più leggero perché? Perché lui è stato studiato, diciamo, per paracadutarsi davvero con questo suo paracadute. Ve lo faccio vedere con, appunto, l'aggeggio indosso, che comunque è figo, è abbastanza grande, chiaramente, però deve contenere un paracadute di dimensioni considerevoli. Sto tergiversando, lo so, perché lo so che già per rimettere a posto questo paracadute, ragazzi, ci metterò una vita. Andiamolo ad aprire. Allora, tra l'altro accessorio super perdibile questo perché il paracadute molto spesso andava perso totalmente. Eccolo qua il paracadute. Questa cosa me ne pentirò amaramente, amaramente, però, ripeto, bisogna vederlo per il content. Eccolo qua, ragazzi. Fatto in questa plastica sembra quasi, non so, per farvi capire, una delle confezioni dell'uovo di Pasqua, quasi, forse ancora più leggera come plastica. Eccolo qua, aiuto. Che sto facendo, aiuto. Guarda tutte quelle corde. Allora, il paracadute è questo. Non si vedrà mai l'inquadratura. Vediamo così. Eccolo qua, ragazzi. Ho dovuto usare il grandangolo. Questo è il paracadute argentato, tamarrissimo, anche questo, con il logo di Batman, però. Questo è in confronto al Batman per farvi capire quanto è grande, perché c'è il grandangolo. E qui è collegato con tutti questi fili, chiaramente, all'aggeggio. E adesso sarà da ridere, da riderissimo per me, rimettere a posto questa roba qui. Questo qui, ragazzi, era fatto apposta per essere lanciato in aria e poi cadeva e si apriva davvero il paracadute. Chiaramente non lo faccio per non rovinare la figure, però è stato pensato apposta per quello. E quindi questo era tutto per il nostro Skydive Batman, il Batman paracadutista. Adesso pregate per me, per rimettere a posto quel paracadute. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio sempre per la visione. Spero che questo video vi abbia risvegliato qualche bel ricordo, perché sono sicuro che qualcuno di voi aveva questo Batman da bambino e magari ce l'ha ancora adesso o magari vorrebbe recuperarlo. Detto questo, io vi ringrazio come sempre per la visione. Ciao d'ala da Skydive Batman. Colleziate sempre.